Oh Ma ma cos'è sta merda ma se poi c'è il mio c'è pure il mio logo ma tira via per favore cos'è sta Appunto perché mi camuffo anche te camuffi Ma che vergogna Puttana che schifo no no dai scherzato però Ma no ma tieni tieni il logo bello Sì ormai il massi è famoso dai dai go go start start bye bye C'è ragione c'è ragione scusate Allora ragazzi oggi spacchiamo aspetta aspetta adesso viene la parte bella vediamo quanto c'hai di kd Ah uno o tre Vediamo chi c'è sta in live Ma io ho sempre perso per le tippe Ah colpa degli altri Ma te o inizi ad ascoltare gli altri e incominciare a giocare con un senso logico Ma questa pubblicità Oppure Ah ma le fanno tua madre Prendi qua il papi Ciao nerone ciao main bella bella Te lo porto io Yes my dad Stanno finca finca ittata finca ittata Sotto corridoio La smorto Finca corridoio rosso mano occhio C'è uno in art sul mark giallo Morta Dov'è dov'è Basta è in studio Uno in studio E' uno in studio Parte sinistra Morto Sto dronando Finestra nighty davvero? Sto piccando E' morto stai calmo però Me lo devi dire una volta e basta Ti ho chiesto si è rappellato dentro La risposta doveva essere si Esatto Morto Ho preso Ho preso Ho preso una protesta Compagnia Lava qui Eh stai messo Che conte che son qua Eh conte l'altro La stessa lì Non vedo 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 Nella doccia Provo a montapparla Occhio ho un euro lì Nello stanzino a fronte È lì è lì è lì Montappata Sledge Occhio adesso è troppo Laggiù in fondo Ma che cos'è Ecco perché Perdo Cos'è sta roba Sì Sì Hi guys Today's video is getting sponsored by The Rich The Rich if you didn't know is the Amazon Minimal Front Pocket Wallet The wallet is slim RFID blocking and lifetime guaranteed It comes in Titanium, Carbon Fiber, Aluminium, Polycarbonate and many more with different colors to choose from It has two metal blades bound together by a durable elastic band and it's incredibly easy to get what you want in and what you want out For more info recommend you guys to visit the website at TheBridge.com.slashsloppy What? È sdraiata fuori main sulla sinistra ragazzi Sali coprimi destra Max che sto piccando di giù davanti Neuro dietro o? Dietro se sta io, non ti preoccupare Vai vai manda il drone Chi è morto Alibi? Sì Alibi è morta Alibi è morta Allora ragazzi ce n'è B è clear B è clear Copri dietro Neuro continua a copri dietro Perfetto C'è uno in rotation Solo il Kestle in situ Ok sono due Solo il Kestle in situ Solo il Kestle Ce n'è un altro dentro Un attimo Draca hold Bravo Ce n'è uno dietro a bomba di statue È morto È morto anche a Legion Ma chi è? L'ultimo da sotto Planto, planto Planta Ma dov'è? Ma dov'è? Guarda questo Ma che cazzo fa questo? Ma dov'era? Io ho sentito un C4 da sotto Guardalo, guardalo Guardalo Non lo vedo Io ho sentito un C4 da sotto Mica questo Mica questo è il coionito Ah si ci sto io dai Porco di c***o Rai chiudi o c***o Mi ha un wall bang Mi ha un wall bang dal tetto eh C'è la sinistra C'è la sinistra Dove stai mirando Sì sì Qua è la finestra Sì C'è la sua destra È sotto è sotto è sotto Ti arriva dalle scale pa Cale Verdi Cale Verdi Cale Verdi Dietro di te Potto 5 Cazzo Eh son coion Bravo 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 Massimo Mica questo mi ha wall bangato dal tetto Che c***o di lasciata ha fatto Ragazzi Bop Crosshair placement è un po' D'anzianotto eh Però E lo so che l'hanno visto Però va va No non lo so Ma te lo so un kill Non è una stringa Eh l'altro è qua sotto E' aperta Fermo fermo Manu viene Qua le scale Qua le scale Il parcheggio Qua le scale qua Uh Viscite 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 Ma guarda Eh no pensavo stesse dietro il muro Quanta vita Quanta vita Non volevo one tapparlo ma C***o Non proprio all'angolo C***o Dovevo stesse verso il muro qui C***o Perché non volevo Manu ma che auricolari stai usando adesso Bosped Conforventi C***o a me servebbero fare auricolari Secondo me sono molto me Bosta come una gomma da una macchina Ah si Quella posteriore E' più larga Giorno Il resto della uno Uno fuori service, c'è il nomad C'è un altro? Buone, buone, buone Da bar blu, ragà, mi sono arrivato IQ Uno sta... uno, due Uno sta... Vabbè, bar alba, c'è la rotation in giù Nice Buon lavoro, ragazzi Ma questi sopra non ci sono manco stati, non ho capito No, non ha neanche fatto vertical Infatti mi aspettavo tipo che andassero sopra e ci inculassero in quanti vi siete chiusi dentro Ma non c'erano droni Morto kitchen Morta doc Ultimo Era verso l'hugage in teoria Injured Sì Bravo, fuori da cazzo Il defuser perché è giù? Vabbè, uno è morto perché non so che cazzo stia facendo Però vabbè Allora Holdate qua? Sì Nice C'era il vigi Stava flencando Non me ne sono messi a guardare Bravo, bro Questo è quello che succede quando pianifichi un attacco, papi, capito? Leión Lei fuori male Non c'è a te Se hai piccato l'interazzino ma Ma mi sa che ho l'audio buggato Ma sei fat jaarido Te mani buggati ti ho bitato, no i bad madonna madonna madre di dios scale blu arrivo ok se sto io ma c'è una rotessa nice no era mangiù ma guarda è scaleato no 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 no